La Regione Campania ha riconosciuto alla città di Battipaglia un ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo urbano attraverso la previsione nel FESER 2014-2020 dell'asse sviluppo urbano sostenibile, denominato Programma Integrato Città Sostenibile, Piano Integrato Città Sostenibile, i cosiddetti PICS. Il Comune sul sito dell'ente invita la cittadinanza tutta alle organizzazioni del territorio a partecipare al questionario che troverete alla sezione PICS sul sito inviando presso la sequente mail pix-comune.battipaglia.sa.it entro in oltre le ore 12 dell'11 febbraio 2019 per la redazione del documento di orientamento strategico Piano Integrato Città Sostenibile. Le eventuali proposte regolarmente pervenute e ritenute coerenti con le direttrici saranno oggetto di discussione e valutazione nel corso di incontri pubblici, organizzati e pubblicizzati dal Comune, la cui sintesi sarà inclusa nel DOS.